Pogba, vai lì, riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio, ci sono metri a disposizione, attenzione pericolo, Perotti, ottimo intervento nel portiere, corner dunque per la Roma, corner battuto corto, netta la posizione di offside, interrompe bene, occhio al tiro che può valere il vantaggio, e si salva con un miracolo, per un attimo Piera, aveva già gridato il gol, Lukaku, occhio cerca l'area di rigore, occhio a Lukaku, Simmo Rashford, prova a calciare, c'è spazio per andare, Pulpobà, Fassio, Florenzi, c'è il movimento senza palla, De Rossi, Collarone, fanno girare molto bene il pallone, ottimo il possesso, De Rossi, Perotti, Fassio, punta l'area, passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento, Pogba, Alexis Sanchez, Matic, Juan Mata, Puntuale qui il difensore nel recupero, palla in mezzo dopo un buon intervento, Rashford, Matic, bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla, Edin Dzeko, Rashford, possesso per lo United, palla profonda per Sanchez, palla, Sanchez, occhio a Mata che è solo, cambia dunque il risultato, col gol del vantaggio, adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiere Stefano. E questa piera è un'analisi tattica perfetta, condivido tutto quello che hai detto. Altra perla di Mata, un altro gol pesante. La messa là, dove il potere non poteva arrivare, chirurgico, Colano, Paul Pogba, Matic, Blinder, Pogba, buona triangolazione, Rashford, si avvicina all'area, Paul Pogba, ecco Lukaku, Matic, Pogba, attenzione a Mata, ancora su Pogba, che grande intervento, lo ferma ma non controlla, passaggio intercettato, passaggio intercettato, passaggio intercettato, Rashford, grande uno contro uno, non è finita, c'entra in pieno il difensore, Pogba, Matic, Mata, grande recupero, Perotti, occhio al giocatore della Roma, Ceco, palla fuori, grande occasione gettata al vento, Pier, questa, El Sharauni, baragna metri verso l'area, attenzione pericolo, grande parata, grande riflesso, super qui il portiere, palla in out, sarà calcio d'angolo per la Roma, palla in out, sarà pallo laterale, guadagna metri, Alexis Sanchez, ripartono in campo aperto, interrompe bene l'azione, intercettando il lancio, palla larga per Florenzi, legge bene il pallone di Nainggolan, e recupera, sarà calcio di punizione contro lo United, tocco di ritorno su Florenzi, c'è spazio per andare, Ceco, Juan Mata, perde un brutto pallone, ottima la lettura del difensore, che ha capito tutto, ha recuperato il pallone, Roma che può andare dalla bandierina, Calcio d'angolo corto, ferma l'azione, recupera il pallone, mettendosi sulla traiettoria giusta, Lukaku, Valencia, e finisce, si riparte dunque con il Manchester United in vantaggio, occhio cerca l'area di rigore, occhio a Lukaku, tutto fermo, l'arbitro ferma Sanchez in fuorigioco, Lorenzi, recupera la palla, intercettando bene il pallone, attenzione a Mata, spazzano via il pallone, Florenzi, bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio, ha riconquistato palla, Stefano ti ha convinto fin qui in Mata, in questo primo tempo, può essere contento, all'interessante dello spazio, un altro ottimo passaggio, Valencia, Juan Mata, Matic, possesso per lo United, grande chiusura difensiva, Florenzi, Dzeko, rientra, Alexis Sanchez, Paul Pogba, Juan Mata, punta l'area, Lukaku, Perotti, Nainggolan, Erin Dzeko, l'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari, occhio al suo movimento, occhio a cross per Mata, palla recuperata, azione interrotta, Pogba, Lukaku, Pogba, Lukaku, Florenzi, Erin Dzeko, qualche problema si vede, speriamo non si tratti di nulla di grave, alla profonda per Nainggolan, servito bene Nainggolan, attenzione a Dzeko che è solo, e il pallone entra, ed è gol, è riuscito a tenere, il pallone basso, l'ha spedito in fondo alla rete, tutto da fare per il portiere, è una partita molto equilibrata, vediamo adesso cosa accadrà con il pareggio, hanno pareggiato, dunque, uno a uno, Matiz, va da indietro al compagno, palla in out, si ricomincia con la rimessa per la Roma, palla girata sulla fascia, Erin Dzeko, c'è il vantaggio dato all'arbitro, attacca la Roma, Perotti, Occhio a Nainggolan, difesa che fatica a spazzare via palla, Pulpogba, ripartono in campo aperto, si può giocare, regola del vantaggio per lo United, siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara, vai lì, Matiz, Occhio, cerca l'area di rigore, Pulpogba, ecco Lukaku, e c'è il tiro, Perotti, De Rossi, Maraglia Metri, Herrera, ancora un quarto d'ora da giocare, Nainggolan, De Rossi, Roma che attacca ancora lateralmente, brutto cross, c'è il recupero, recuperano palla, Lukaku, guadagna Metri verso l'area, Nainggolan, Erin Dzeko, ottimo il De Vai, a Metri, ha servito bene Nainggolan, Nainggolan, la cambia lui, la cambia il ninja, dipenderà tutto da questi ultimi minuti ora, dalla reazione degli avversari, dalla loro voglia di portare a casa questo risultato, era un rigore in movimento e non ha sbagliato, aveva lo specchio della porta completamente spalancato, doveva solo metterla, partita che riparte con lo United dunque in svantaggio, dunque in svantaggio, non ha sbagliato, non ha sbagliato, United sotto di misura l'Oltraffor, quando manca poco, Red Devils che devono frettare le operazioni, una simile cornice di pubblico, non merita di assistere a una sconfitta, sarebbe un vero peccato, si avvicina all'area, un pallone filtrante, esce e recupera il pallone, cinque minuti alla fine, avanti di un gol, tutto può ancora succedere, Nainggolan, fermano la pallone avversaria, Pogba, sarà calcio di punizione contro la Roma, arriva la decisione dell'arbitro, sarà cartellino giallo, giallo per il giocatore della Roma, era nervoso, si vedeva, già da un po', rischiava ed è arrivato, pallone profondo, pericoloso, efficace è l'intervento del portiere, che salva, Gieco, Florenzi, si giocherà ancora per due minuti, riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio, Lukaku non si arrendono, vogliono almeno i pari, può essere uno degli ultimi assalti del match, Belli, pallone fuori di poco, ha riuscito lo stesso a calcio, dicendo aublica, e quindi fa sbagliare il passaggio, tutto questo, qui sonate del passaggio, ha riuscito, caen un po' di più, non si può essere uno spettatore, grazie a tutti, e la tabl monde,